Ed ecco qua Eros Ramazzotti che si sta allenando in modo molto intenso Aspetta canto anche, una terra promessa, un mondo diverso Mi favorisce, poi un canto più, come metti su Youtube Come no, assolutamente si, ma poi mi tenesti Ma noi mettiamo il numero privato Senti Riccardo, mi dici un attimino, quanto è che ti stai allenando? 5 minuti o 10 No, a parte oggi Ah, ah, 5 anni 5 anni E te come attività fai? Che serve? Sei un imprenditore Sì, sono imprenditore nel settore della scarpa Della scarpa E nell'intervallo pranzo vieni qua a scaricarti Sì Quali sono i benefici che hai visto? Ah, attacca papieri Come vedete riesce a sollevare carichi che sono anche belli, considerevoli Con il talk test, riesce anche a parlare mentre si allena, non si ferma L'alleamento che sta facendo ora, come si chiama? Ebbene, quello di Sergio Quindi è un high intensity program Ero Molto veloce, senza mai fermarsi Eccolo qua Grazie Riccardo Grazie a tutti